Un altro esercizio storico della città che chiude i battenti. Liberalizzazione delle licenze, affitti alti, consumi in crisi, hanno fatto abbassare la saracinesca al Bar Crystal di Via Cavour, da cui i tavolini e le chesi erano da sempre abituati ad osservare il passeggio in centro, all'ora dell'aperitivo. Al suo posto aprirà una profumeria della multinazionale Marionod. Nell'Ottocento, negli spazi del Bar Crystal, c'era la confetteria Mauri, poi diventata una pasticceria fino ad arrivare a tempi più recenti, quando venne trasformato nel Bar Crystal, gestito dalla famiglia Vaccani, che lo cedette nel 2003 a Filippo Colombo, che insieme ad alcuni soci lo acquistò. L'effetto della liberalizzazione delle licenze si è sentito e il lavoro è diminuito, spiega Colombo, attuale coproprietario del ristorante Azecca Garbugli di Piazza 20 Settembre di Lecco, dove ora andranno a lavorare i dipendenti, fino ad oggi impiegati al Crystal. A Malinquora abbassiamo le serrande, ma solo nell'ultimo anno, nel raggio di pochi metri, hanno aperto tre locali con un'offerta simile alla nostra. Il contratto di affitto inoltre era in scadenza, la proprietà era intenzionata ad aumentarci il canone. A questo punto abbiamo tirato le somme e deciso di chiudere un altro pezzo di Lecco che se ne va.